Certe notti la camera calda Sembra la porta del Cirque du Soleil Tu borbotti ma il turno che monta Serve un plasil per cotanto via vai Certe notti sognavi di stare via Ma sei lì rattrappito al first day Certe notti somiglia a un supplizio Che non mi vuole smettere No voglio che resti qui Non posso Scusami Ma non mi capisco la ragione Certe notti ricordi Tiziana Sembrava che non finissero più Quelle notti seduta ascoltare E ad ogni dettaglio sprofondi più Sbaglio Certe notti che sembra finita C'è un'automedica che ci porterà Dei catorci a dir poco confusi Con tanti saluti dell'RSA Sì lo so non siamo i soli A far notti così Nonostante ciò mi rode Nonostante ciò mi rode Venire qui A cazzotti stai sveglio Che dormire tu non puoi Quoti sono a piario corrido Certe notti ti arriva il cialtrone Che recita un post Tidica trentatré A stitotti Se sei fortunato Di tropponine Ne devi far tre Ce l'hai rotta E mangiato Dall'una alle sette E agli esami Più belli di me Si denoti E assai fortunato Che fussi un anno Ma hai ucciso un granché Non ci puoi lasciare soli Con sti idioti qui Ad escludere un problema Al cuore Con le cg Ci fanno tre rutti E stanno meglio E l'infarto viene a chi Vede andare al contrario I numeri 116 116 Ma dove l'avevo messo Ma non c'è nessuno Ma non c'è nessuno Ma non c'è nessuno Ma vado io a prenderlo Chi è? E lei? 116 Ma su si dio la massa Feroce che è mezz'ora che la chiamo Ma su che accomodano le gambe Ma quante scuse Ma l'hai inventato Fiorezzo Fiorezzo Certe notti Che arrivi sereno Perché qui L'igiene Si dice Non fai Quelle notti Il PS è un ospizio E tu non puoi dimettere Dimettere mai Se non puoi lasciarci i soldi Puoi fare il PS Ringgiare alla pensione Cambiarla sì Tra i serotti e le maio Puoi stare al meglio sai Ma se passas tu brano Che ha chi vuoi Ma che è che rompe ancora gli Zebedei alle due e mezza di notte Sarà ancora qualche genio prestato dalla centrale che mi vuol mandarsi giù per la valle A posizionare i loro cateteri Sai dove glieli ficcherei i cateteri uno a uno? Ma io un'idea me la son fatta Adesso Gli dico io quattro A sti menomati dell'oste Pronto? Sì buonanotte Sì buonanotte Sono paziente Professor Pistilli Sto scendendo da questione di corsa che ero su in villeggiatura E che ascolti lo sto chiamando ma sarà che qua in valle montagna tanta campo zero non mi risponde E che io sono in lista per la coronografia e starei venendo a fare un controllino E' di turno stanotte il professore Me lo può chiamare? Adelina 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 chi? Adelina 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 Grazie.